Quali sono le grandi ricchezze che ha l'Italia, che ha il nostro paese? Il patrimonio storico, artistico, culturale, il paesaggio splendido che ha questo paese è una rete infrastrutturale che è veramente stata per anni all'avanguardia in Europa e forse nel mondo. E queste sono le vere grandi opere. Il piano di manutenzione dell'opera è un investimento fortissimo da portare avanti perché è un progetto nel progetto e io posso fare delle scelte che all'inizio possono sembrare più costose ma che mi abbattono notevolmente la gestione. Sono regole semplicissime. Il nostro territorio, lo sappiamo benissimo, abbiamo aree ad altissimo rischio di frane e continuamente abbiamo dei fatti che accadono e ci riportano alla mente queste cose. Non dimentichiamo lo stato in cui si trovano tanti corsi d'acqua della regione Campania. E poi non dimentichiamo, e questo è il riassetto idrogeologico a cui bisogna pensare, però abbiamo l'urgenza più forte. Abbiamo un territorio che nel 1980 ha subito uno dei terremoti più violenti che l'Italia abbia usato. 3.000 morti. È il terremoto dell'Irpinia e di tutto il territorio. Continuiamo ad avere un patrimonio edilizio monumentale fortemente esposto al rischio sismico.